Buonasera a tutti da Maria Lucevilla e sempre dal team di Rete Informatica Lavoro. Bentornati a questo nuovo appuntamento del giovedì sera, sempre organizzato anche in collaborazione con la nostra Academy. Buonasera a tutti, ciao Gianfranco, perfetto, quindi non vi chiedo se mi sentite correttamente come sempre, perfetto, allora procediamo. Questa sera parleremo di OnCloud, software libero che permette di gestire un completo servizio di file hosting. L'argomento è stato proposto e suggerito tempo fa da tanti di voi, sempre interessati al software open source e attraverso le survey che ogni tanto vi condivido durante i nostri webinar. Questa sera ve ne condividerò una nuova verso la fine dell'intervento di oggi. Quindi se parliamo di open source lo facciamo con piacere con Fabio Carletti, consulente sulla sicurezza informatica ed esperto del mondo del software libero. Ciao Fabio. Buonasera a tutti. Ecco ti, ciao Fabio, bentornato. Bentornato a questo appuntamento. Non ti vediamo. Ecco ti. Ok, allora come sempre prima di partire qualche informazione per un corretto svolgimento del webinar, siamo anche in tanti, quindi chiedo cortesemente per i nuovi, soprattutto per i nuovi utenti, di scrivere le domande solo nella sezione domande, mentre la chat è a vostra disposizione per domande magari più organizzative a cui risponderò io tranquillamente durante il webinar. Verso la fine del webinar vi invierò la survey di cui parlavo prima e vi condividerò il link del nostro canale YouTube dove da domani mattina ci sarà tutto il materiale, sia il video, del webinar e anche il PDF che Fabio condividerà questa sera. Quindi io come sempre lascio la parola a te, ti condivido il PDF, giusto? Sì. E apro il tuo presentazione. Perfetto. Ottimo. A più tardi. Buon webinar a tutti. Ok. Buonasera a tutti. Per chi mi conosce già, ho fatto già altri talk in ambito open source e software, sono molto sensibile a queste tematiche per quanto riguarda Linux o tutte quelle piattaforme che sono software free e open source. Stasera ho voluto parlare di questo sistema, un cloud, anche perché il discorso del cloud, anche come backup paranoico o per sfuggire ai malware o ai crypto locker, è sempre più sentito. E il fatto di rimanere operativi anche in chi è il lockdown a casa, quarantene varie, smart working, il fatto di avere comunque un piano B o comunque una piattaforma di scorta online fa sempre comodo. Quindi ho voluto parlare, l'argomento che volevo trattare, insomma, che non ho mai toccato finora, è stato questo del cloud e lo faccio con questa piattaforma che si chiama OnCloud che è proprio un progetto open source in cui ci sono, dopo vedremo, insomma, ci sono un sacco di servizi e modo di integrazione e 360 gradi. Allora, per chi è la prima volta che segue il mio webinar, io mi occupo di consulenza informatica e sono delle marche e sono un volontario del progetto Tor e sono un amante dei sistemi operativi open source a 360 gradi. Cerco di portare dove posso software open source o soluzioni tendenzialmente Linux like nella piccola mia azienda che condorna un po' la mia provincia. Prima di parlare proprio del progetto in sé per sé specifico, è doveroso spendere qualche parola sulla licenza GPL che permette questo qua. Quindi chi ha seguito il mio talk webinar sul Linux e su altri software open source, mi perdonerete, ma spiegare la licenza che permette di far girare tutto ciò che sta dietro il mondo open source è un po' d'obbligo, come si dice. La licenza GPL sta per General Public License e sostanzialmente è una licenza che permette al software di essere creato, divulgato, ma senza avere riconoscimenti dei royalties, dei pagamenti. Quindi per fare un esempio, che lo faccio sempre, è un po' come se io scopro, non so, tipo l'acqua, l'acqua è fatta con H2O e la rilascia sotto forma della licenza GPL. Quindi che significa? Che chiunque può riprodurre l'acqua, chiunque può, sapendo le molecole, perché sono lì veramente visibili, come sta fatto il procedimento per sviluppare un software o un programma che in gergo tecnico si chiama ricompilare, comunque vedere i sorgenti, cioè quello che sta sotto al cofano del motore, del software, può vedere tutti il codice e lo può diffondere e divulgare tranquillamente senza pagare riconoscimenti a nessuno. Ma nessuno può dire io copio questo progetto e dico che è perché comunque questa licenza GPL tutela chi ha prodotto il software e garantisce che uno non è che può fare il furbo in cui se ne appropria e poi mette sopra un'interfaccia grafica diversa e poi lo vende sfruttando sotto il meccanismo di qualcun altro. Quindi la licenza GPL ha di buono il fatto che mettendo a disposizione anche i sorgenti, anche i software che si va a utilizzare, altre persone possono leggere il codice, come dicevo prima, e se sono capaci, perché bisogna anche sapere di programmazione e del specifico linguaggio di programmazione, permette anche di migliorarlo e diffondolo. Quindi possiamo comprendere il fatto che se una persona fa un software specifico, poi lo posta su Github, se faccio un esempio, nel mondo GIT e poi lo amplia, più persone possono contribuire per migliorarlo, magari anche perché si ha più tempo, quello del software dà una cosa basilare e magari con il contributo di più persone aumenta. E l'aumento anche esponenziale della comunità fa sì anche che un software viene abbastanza supportato. Quindi dov'è il guadagno che sta dietro al mondo dell'open source? È nel servizio, perché comunque posso, ho il cliente che dice ecco, ho un cloud, è un cloud, scarico la macchina virtuale, lo installo e sta su GIT e è gratuito. Quello che mi pagano è il servizio, il fatto che c'è a installare il web server, il database, e pacchetti vari, insomma. Quindi tutto ciò che sta dietro al mondo dell'open source è sul servizio dell'assistenza, della consulenza, non tanto il software in sé per sé. Un altro esempio che posso portare è il LibreOffice, OpenOffice, sono un software open source in cui non è che posso vendere e rivendere a mio cliente il LibreOffice. La consulenza sta nel installare il LibreOffice, adesso faccio uno, e eventualmente configurare con qualcosa specifico che serve per quell'ufficio, per quell'attività lavorativa. Ecco, ho fatto un esempio per capire, insomma, che è qualcosa che sta dietro il business, sta dietro alla consulenza e anche alla conoscenza e anche allo studio, perché comunque non è che nasciamo imparati per l'utilizzo di quel software. Quindi il motto che viene un po' sponsorizzato anche agli hacker camp nel mondo dell'open source è quello di usa, analizza, modifica e condividi. Quindi usa, lo puoi utilizzare tranquillamente, analizza, lo puoi controllare, se sei capace che sai di che cosa stiamo parlando, lo puoi modificare se pensi di portare qualche miglioria o comunque fare qualche commit interessante su GIT, per esempio l'altra volta nel webinar si parlava di Linux, Linux è qualcosa in cui è stato proprio fatto per questo, molte persone analizzavano il college e proponevano delle modifiche al kernel, ai driver per supporto di qualche piatto a formato in particolare, e è così che il kernel Linux o comunque instaurativi o qualsiasi progetto open source è diventato sempre più interessante come servizio e poi ecco il fatto che uno solo può condividere tranquillamente perché non è come una copia pirata di Windows o di Office. Quindi ecco può tranquillamente distribuirlo ad altre persone che non c'è problema di fare la copia contraffatta, ecco non esiste nell'ambito dell'open source. Ci sono anche altre licenze, BSD, Berkley Soft Distribution, che un po' comuna tutte le piattaforme che stanno nel mondo del sistema operativo Fibri SD, NetBSD OpenBSD, per citare un po' i più famosi l'ambito BSD. Quindi ecco, sostanzialmente la licenza GPL, copri left, che poi comunque viene agganciata anche al mondo della musica in cui ci sono anche gli artisti che lasciano in licenza in cui la musica la puoi distribuire, la puoi sentire tranquillamente e non c'è da pagare i riconoscimenti alla CI. Quindi ecco un concetto particolare che è nato un po' con l'avvento agli albori di Linux e un po' l'azienda che sta vedo che tutela un po' tutto, si chiama FreeSoft Foundation e al solito, insomma, la copiata che si fa è il fatto della FreeSoft Foundation Stallman, che è un grande, insomma, punto di riferimento del software libero e in cui ecco questa, non come ho messo proprio nella slide, la FreeSoft Foundation detiene i diritti di copyright sul testo della New AGPL, ma non detiene alcun diritto sul software da esso coperto, quindi cerca di tutelare il discorso che il software viene mandato open source, che non ci sia il lucro dal punto di vista di appropriamento del software, del codice che poi viene rivenduto illegittimamente, ecco, ma anche dopo ognuno col progetto open source, insomma, chiude, lo apre, fa come vuole, insomma. La New GPL non è liberamente modificabile, solo la copia e la distribuzione sono permesse. La FreeSoft Foundation permette, come se fosse una struttura giuridica in cui va a tutelare tutto ciò che sta nel mondo legato a software open source, insomma, queste licenze che permette, di solito che utilizzate nel mondo dello sviluppo e della produzione del codice, ecco, quindi è una cosa abbastanza sentita per gli informatici o chi lavora su piattaforma embedded o tutto ciò che si avvicina più caro al mondo Linux e al mondo del codice aperto. La FreeSoft Foundation permette di creare nuove licenze basate sulla New GPL, a patto che le licenze non usino lo stesso brambolo senza permesso. Dato che solitamente la nuova licenza non è compatibile con la New GPL, la FreeSoft Foundation consiglia di creare nuove versioni modificate, essa aggrandisce agli utenti finali, come organizzazioni, imprese o semplici individui, di utilizzare, condividere e persino modificare il software. Il GPL è una licenza copyleft, il che significa che le opere derivate, quindi il software, il gestionale, cioè qualsiasi software o anche il sistema operativo, insomma, quindi stiamo parlando di qualsiasi volume di software che viene prodotto, derivate e possono essere distribuite solo sotto gli stessi termini di licenza. Il GPL è stata la prima licenza copyleft per uso generale, è stato un po' quello che ha aperto un buon mondo al software libero. Il software libero è un software che rispetta la libertà degli utenti, come ho scritto nella slide, e la comunità. Gli utenti hanno la libertà di eseguire, copiare, distribuire, studiare, cosa importante per chi studia informatico o comunque gli piace imparare a programmare, modificare e migliorare il software. Tutto ciò porta alla libertà, e quindi non di prezzo. Per capire il concetto bisognerebbe pensare alla libertà di parola e non all'abbino gratis, quindi gratis lo scarico gratuitamente, la istituzione Linux, anche questo software si può scaricare tranquillamente, ma non è perché sono libero di utilizzarlo, non perché ho il diritto di prendere le cose gratis, ecco, quindi era proprio un concetto che sta dietro a tutto ciò che ha portato anche alla possibilità di esistere di questa piattaforma cloud. Tramite questa libertà gli utenti controllano il programma e le sue funzioni. Quando non sono utenti a controllare il programma, allora il programma, che in questo caso se chiamiamo non libero proprietario, controlla gli utenti. Quindi pensiamo a tutti quegli software in cui non possiamo andare a mettere le mani sotto il cofono, che non possiamo sapere come è stato fatto il codice sorgente, quindi tutto ciò che c'è copyright, Windows, il programma in cui c'è la licenza, il gestionale, il programma, Office, adesso faccio dei esempi di software più Photoshop, After Effects, Adobe Premiere, tutto ciò insomma in cui c'è da pagare una licenza per utilizzarlo. Non possiamo andare a vedere sul codice cosa fa o cosa c'è scritto. Quindi se c'è qualcosa di strano, qualche backdoor o qualcosa che anche vorremmo migliorare o personalizzare per il nostro target, perché magari abbiamo delle esistenze semplici, non lo possiamo fare. Ed è questa stata una cosa molto interessante nell'ambito dell'open source, perché non solo, nello scorso webinar parlavo di Linux e il fatto che sta anche su piattaforma embedded, su micro PC, micro controllori, lo troviamo anche dentro la lavatrice, perché essendo una cosa open source io posso modificarlo e adattarlo all'hardware che la mia azienda magari produce. L'open source ha permesso anche per esempio a questo software di cui parleremo stasera di essere modificato e poi vedremo che ci sono un sacco di cose che dal market si può aggiungere come plugin e utilizzarlo per le cose più disparate. Quindi gli sviluppatori controllano il programma, che quindi diventa uno strumento di abuso. Quindi il fatto che solo l'azienda risponde a quel programma specifico e nessun altro, se l'azienda chiude, chi è che porta avanti l'utilizzo di quel file prodotto da quel software? Il fatto di essere libero significa che la licenza e anche l'estensione dei file che viene prodotto sono libere, quindi chiunque un domani, anche se l'azienda chiude o la community, può sempre il progetto essere ripreso e portare avanti il sviluppato. E allora, quindi andiamo un po' più nello specifico. Il progetto OnCloud è stato avviato nel 2010 con l'idea di offrire un'alternativa libera ai servizi cloud commerciali. Lo sviluppatore software di origine tedesca è in presenza membro della comunità KDE. KDE, per chi non lo conosce, è un desktop manager di Linux, in cui è famoso per questo KDE, perché è quello che prendeva più risorse hardware, perché è abbastanza ricco, bello, zacco dei colori e molto più pesante rispetto magari ad altri desktop manager molto più leggeri. Quindi KDE, insomma, è una cosa spettamente legata a desktop manager e in ambito Linux. Si può trovare anche altri sistemi operativi, BSD. Quindi proprio KDE è stato abbinato a OpenSUSE, OpenSUSE Linux e comunque di stampo tedesco. Dedicato allo sviluppo di software liberi. Il cuore di OnCloud è l'applicazione server OnCloud X, installabile su qualsiasi server o spazio web. Poi vedremo, insomma, perché abbiamo deciso con questo webinar di fare una sorta di webinar barra workshop, in cui dopo questo slide farò vedere che ho preso proprio un computer che ho in casa, un portatile con molta RAM. Ho messo su una macchina virtuale e vi farò vedere poi, mi connetterò e potrete vedere, insomma, questo cloud improvvisato in cui posso andare a trascinare al browser come qualsiasi cloud, file, pdf, anche aprirli e leggere il demo reale. L'utilizzo della RAM e lo spazio sul disco fisso necessario dipendono molto dall'utilizzo del server cloud. Necessario usare risorse sulla base di criteri come il numero di utenti e attività generale sul server. Se pensate che questo sistema, un cloud, è per pochi nerd, smanettoni, in realtà è un sistema molto funzionale in cui viene utilizzato anche da grandi corporazioni come la Banca Investimenti Europea, che viene chiamata Arabei, quindi la Commissione Europea e anche la Zurich, il CERN, la Ginevra, utilizza questo qua. E mi pare oddiamente anche qualcosa sul Dipartimento di Fisica. Quindi è un sistema molto molto valido. Ovviamente quando vado a installare su un server, un sistema cloud, nel server cloud, bisogna vedere anche quante persone si connettono, quante hard disk o spazio puoi ottenere nel cloud in base alle esigenze specifiche. Quindi io, per esempio, ho preso un portatile tranquillissimo, quindi con un hard disk interno, nulla di stratosferico. Però ecco, potrei anche prendere il mio computer inutilizzato dentro casa e metterci un hard disk da 3-4 tera. Come posso prendere anche qualcosa di un po' più strutturato con più server, con più hard disk in ride, per fare una sorta di backup. Quindi tutte soluzioni commerciali, tipo i NAS della Western Digital o i QNAP, cose simili, sono tutte cose che si possono realizzare l'open source qua. Quindi sostanzialmente è tutto un sistema particolare in cui, rispetto ad altre soluzioni commerciali, in cui poi dopo se l'azienda chiude, se il supporto non è abbastanza, insomma, quindi queste soluzioni open source sono sempre legate a qualcosa che c'è il supporto, c'è l'assistenza e permette, insomma, di creare per chi vuole qualcosa anche locale o anche online di un cloud molto, molto, molto versabile. Quindi, cloud e vantaggi. Questo è il sito, uncloud.com.it. Ci sono dei client per i desktop e app per i dispositivi mobile per tutte le piattaforme comuni. Poi vi farò vedere il sito. I requisiti di sistema hardware sono minimi perché comunque, ecco, si parte dal minimo sindacabile che basta far partire o la macchina virtuale o comunque far partire il sistema con le libri lì per il server, perché sostanzialmente è un sito, il cloud, in cui va a gestire questi nostri file. E quindi, ripeto, in base agli hard disk, in base alla velocità del server, per le più persone saponnesse che chiedono, lavorano in contemporanea su server per più richieste, più, c'è bisogno di più richieste hardware. Ambriabile, grazie alla struttura modulare, poi vedremo che ci sono un sacco di app che sono le cose più disparate, addirittura anche la doppia autenticazione. E diverse app oggettive sono disponibili nel marketplace che poi vedremo. Funzionalità avanzata per lo storage, come crittografia dei file, singolarizzazione con il desktop, scambio di file tra server, di friend e gestione delle quote disco. Perché comunque questo qua è un sistema che per esempio è già conforme al discorso del GDPR. Quindi è possibile sia tenere i file crittografati crittografati e sia creare utenti, ogni utente c'è anche delle cartelle da condividere tra più utenti, per esempio un progetto per una squadra di persone. Quindi vastissima offerta di client, si può interagire con on cloud, utilizzando app Android e iOS, nonché utilizzando il software di desktop per Windows, Linux e Mac. Storage esterno, quindi possibile anche come qualsiasi soluzioni in casalinga o comunque per l'azienda cloud anche inserire qualcosa di esterno e copiare anche magari, non so, un backup paranoico oppure ecco, uno vuole mettere nel cloud invece di passare per il computer dei file da un disco esterno, da una chiavetta. Quindi sarà questi servizi in cloud offerti da maggiori provider, metto a disposizione spazio disco in remoto. Documentazione approfondita, perché comunque è tutto open source e quindi ci sono le guide anche per l'installazione su server Linux o piattaforme più da volo, vedremo comunque. Su sito ufficiale è possibile reperire i tre manuali per l'amministratore, l'utente finale e lo sviluppatore. Doc e guide sono quello lì, che poi vedremo. Un cloud sostanzialmente rende la moderna postazione di lavoro più efficiente, sicura e sotto controllo su ogni esposizio e nel browser, perché comunque un cloud non è solo un posto in cui faccio copia e ingolla o trascino il file e poi rimane qui, ma posso anche lavorare, ci sono anche delle applicazioni anche per Office in cui posso anche interagire e diventa proprio una sorta di scrivania virtuale in cui è un bel punto di riferimento per chi è sempre in giro per motivi di lavoro. Se siate produttivi ovunque vi troviate, trovate, comunicate e condividete i documenti su dispositivi mobile in ufficio a casa e un viaggio. È un po' il motto che sta dietro a questo progetto. Personalizzabile per soddisfare le vostre esigenze. Essendo edattate e regolate, è un cloud per soddisfare le vostre esigenze. Anche voi potete definirlo come vi pare, perché comunque è molto modulare. Poi, ecco, chiudo un po' questi slide un po' introduttivi, perché era un po' d'obbligo di dire qualcosa è sadiente solo chi sa di non sapere, non chi si illude di sapere o ignora così perfino la sua stessa ignoranza, diceva Socrate. Quindi, quello, lo scopo anche di questi webinar sono quelli di mettere la pulce nell'orecchio alle persone anche per dire guarda, c'è questo progetto che va molto, c'è una bella comunità in modo richiesto, molto scaricato, se non lo conosci te la butto là, potrebbe essere una cosa interessante da approfondire. quindi noi siamo qua anche con Maria Luce per sostanzialmente anche per invogliare le persone che ci ascoltano anche utilizzare questi software che sono, io parlerò sempre del software free e open source, quindi tutto ciò che è liberamente scaricabile si può utilizzare, che poi ci sono nel software anche dei servizi a pagamento, quella è una cosa che dopo è l'azienda e le persone che vanno adattare, però mi piace sempre dare quelle oppure opportunità quei lavoretti che si possono anche nel piccolo anche per i propri clienti o per aumentare le soluzioni e mi piace dare la possibilità a ognuno di conoscere e poi dopo eventualmente approfondisce, non è che con il webinar di un'ora neanche uno fa la lezione sostiva, quindi ecco vogliate prendere questi webinar come qualcosa di indicazione e poi dopo chiedere saldo a casa fai i compiti per casa. Allora, io volevo condividere lo schermo se riesco. Allora, ecco, dovreste vedere il mio secondo schermo del computer in cui ho Firefox. Firefox, ho fatto vedere prima io mi connetto al cloud che sostanzialmente è una macchina virtuale ecco, ora vi faccio vedere proprio il sito che c'è proprio le macchine c'è proprio le macchine da scaricare e in cui ecco GDPR Compliance è una cosa importante e eccolo qua, questo sito del riferimento questo è il sito del riferimento dello server c'è la licenza e ecco queste sono le piattaforme più supportate proprio per installare proprio da zero quindi siete voi che con queste distribuzioni Linux Red Hat Fedora Ubuntu Debian queste sono le budgettonate c'è la possibilità insomma di installare proprio il web server il database eccetera quindi sono già i pacchetti altrimenti come ho fatto io potete anche utilizzare il docker che è molto utilizzato di recente altrimenti ecco potete io per esempio sono scaricato il la macchina virtuale per webware eccola qua ambient webware o come potete anche virtualbox io io avevo già portato con webware workstation in cui ho scaricato webware che l'applicazione che già è una macchina virtuale in sé per sé quindi si scarica lo zip si scompatta si dà in pasta a webware che la vede come macchina virtuale di solito default sta installata la rete come di default che va in bridge quindi quando si avvia la macchina virtuale voi la vedrete sulla vostra rete LAN aziendale locale di casa vostra insomma dove siete agganciati e gli darà un indirizzo IP questo indirizzo IP sarà reperibile ecco come vi faccio vedere eccolo qua la prima installazione vi chiederà uno sender password poi di conseguenza vi chiederà un'email in cui vi manda la licenza gratuita in cui i dati dentro la licenza e poi potrete entrare l'administrator ho messo la password e ecco entrate in questa sezione in questa sezione sostanzialmente Fabio scusami puoi allargare un po' con lo zoom l'immagine perché non si legge molto bene grazie come no vuoi un po' più piano perché io l'esempio lo vedo un po' scatti quindi non vorrei che ok allora questo è la home del progetto on cloud l'account administrator poi ovviamente si possono creare anche altri account più o meno limitati in cui ci sono dei file che ho caricato io per esempio quindi questo è un immagine questo è un pdf questo è un manuale on cloud quindi vado ad aprire un pdf ho proprio l'applicazione che mi fa aprire il pdf e posso andare a leggere in pdf quindi un po' come sulla falsariga di google drive o altre soluzioni cloud adesso vi faccio un altro esempio questo per esempio è un'immagine che ho trovato su internet posso andare a mettere un altro ho messo il mio cv adesso lo apro foto performance group ho messo delle slide clicco apro e posso vedere la slide posso scaricarla eccetera quindi è molto molto versatile e interessante e poi ecco vi faccio vedere il pannello di amministrazione impostazioni in cui posso mettere la mia foto il gruppo la lingua e poi mi cambia tutte le impostazioni in base alla lingua predefinita posso creare cartelle ovviamente e quindi nella mia sezione file posso tornare indietro qui è file creo cartelle questo creo posso creare già avevo creato performa group cartella file di testo cartella prova webinar e posso anche caricare i documenti dal mio computer oppure condividere con altri con altri utenti che fanno parte di questo sistema cloud una cosa molto interessante è il market che parlavo prima che dà la possibilità di ampliare moltissimo le funzionalità di on cloud on cloud ecco permette di installare queste app aggiuntive tale per cui non è solo il cloud sterile in ZPS ma permette ecco questa è una cosa fortissima il fatto di mettere la doppia d'indicazione dei fattori e io ho visto che diverse aziende addirittura tengono on cloud esposto su internet e ovviamente ecco mettono la doppia d'indicazione in modo che è un post interessante custom group esterna storage calendario e queste sono tutte soluzioni io per esempio ho installato il visore dei pdf ecco faccio degli esempi vediamo group alert produttività multimail questo è installato l'ho installato ieri per vedere i pdf text editor il calendario e questo è per fare i disegni qualsiasi cosa si clicca spiegano quello che c'è la licenza i gpl versione 2 perché comunque sono stato a fare un modo il certosino comunque ci sono diverse versioni della licenza gpl clicco su installa e me lo scaricano e me installa direttamente i plugin e poi mostro tutto qua ritorno sul mercato e ci sono anche la possibilità comunque di scaricare il codice dal città gtab e ecco questa è la galleria per le foto ecco anche qua clicco installa tutto open source gratuito e ritorno indietro e ho installato questo qua qui sono tutte le marche tutte ecco galleria le poche foto che ho messo mi permette di guardarle come come se fosse ecco la lo slide show delle delle foto ora faccio un altro esempio io carico un'altra foto vediamo cosa fa immagini ne prendo una a caso che ho una che ho scritto linux me la aggiunge vedete ecco queste sono usando le foto queste erano foto già che ho trovato già dentro possibilità di scaricarle e tenerle sullo mio cloud io come vi dicevo prima ho autorizzato un portato del mio con 16 giga di ram in cui essenzialmente sono andato a mettere la mia la mia macchina virtuale dando 4 giga di ram alla macchina virtuale un cloud però ecco potete prendere il vostro server o computer più utilizzato mettete dentro un hard disk da diversi terra e potrebbe essere il vostro punto di riferimento o cloud dentro casa mi interessava farvi vedere il discorso che oltre a VMware c'era anche c'è anche Virtualbox Virtualbox è un sistema open source gratuito rispetto a VMware Workstation che invece di pagare una licenza si compra Virtualbox era della Sun Microsystem ora è preso da Oracle quindi vi scaricate anche lì Virtualbox vi danno il file punto o 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 c'è già la macchina virtuale in cui fanno la prima installazione fanno tutto da solo insomma si aggiorna e avete questo sistema ci sono i due distribuzioni più utilizzate e poi ecco c'è il tar da scaricare e poi mi interessava anche dirvi anche il discorso dei prezzi perché sì è gratuito è open source però la quella che ho utilizzato io è la basic e free community ovvero quella che è per ecco un utente e per un discorso anche per prenderci mano per vedere se può fare per noi per la nostra attività o per quello che vogliamo implementare o se vogliamo fare dei test per vedere se può essere per noi poi ovviamente ecco se per più utenti o comunque se vogliamo fare qualcosa online di più strutturato però se voi andate a considerare anche ecco tipo la standard 5 euro per mese cioè per un'attività business 5 euro che cosa insomma quando hai un sistema cloud in cui se anche ti becca il crypto locker o c'è qualcosa di strano all'interno dei computer di backup avete un backup sul cloud poi comunque il cloud il cloud online non è altro che il computer di qualcun altro quindi molte aziende sono molti due bandi specie se ci sono tanti sensibili per il discorso di GDPR o comunque ci sono segreti industriali per il sviluppo dei progetti il fatto di tenerlo fuori sul cloud e quindi molte aziende non si fidano e preferisco comunque avere il server sta lì io lo vedo è locale quindi lo posso gestire posso sapere di che cosa si parla e quindi ecco prima ho un cloud molti erano andati a next cloud ho un cloud un po' come se fosse lo step successivo già un'evoluzione di next cloud e sostanzialmente è un cloud per chi lo installa tranquillamente da zero non fa altro che installare un web server e tutta una serie di non so se volevo trovare la guida ecco download desktop app questo per mobile sostanzialmente desktop app è un'applicazione che si va a sincronizzare al vostro cloud quindi si va a installare su computer metterò l'indirizzo IP del mio cloud interno che sarà 128.2.252 questo qua poi l'ho memorizzato al router in cui tutte le volte che si riavvia il computer comunque gli viene dato sempre il stesso indirizzo IP fisso altrimenti si cambierebbe sempre comunque in ambito casalingo comunque i router tende a tenere l'indirizzo IP però insomma per chi ha dimestichezza con il networking di HCP sa che comunque dei fondi dei ferimento fermi statici gli viene dato un indirizzo IP fisso sostanzialmente l'app non è altro che un'app che va a chiamare quell'indirizzo IP fisso e invece di utilizzare il browser in cui si va a trascinare ecco faccio vedere un altro file che carico dentro che manuale un libro un libro pdf ecco trascino dentro me lo carica mi fa vedere clicco apro ecco invece di avere il manuale di cheat c'è già l'applicazione che più caro fa comodo per chi deve sincronizzare i file oppure chi dice vuole settare ogni tempo una volta al giorno va a sincronizzare quella cartella porta su porta giù insomma anche sul cellulare fa modulo comodo per chi fa le foto insomma ecco e poi ecco c'è la versione quindi ah c'è anche possibilità questo questo era importante per chi di voi che non vuole scaricare invece si può iscrivere può fare la dimostrazione ecco c'è proprio il discorso della demo online in cui vi creano un account e anche voi potete caricare queste foto così con la macchina virtuale potete fare delle cose in più e quindi ecco per me è un progetto degno di nota in cui mi interessava portare alla conoscenza questo è il discorso delle guide o un cloud docs guide in cui c'è proprio come installare il forum ecco andiamo qua installazione installazione che ci porta la pagina quello di questi dei pacchetti get packet queste sono delle distribuzioni molto più conosciute quindi ecco centos e redat è la versione gratuita di redat con il cappellino rosso open source è tedesca è un po' quella che è nata con KD che lo ce l'avevo prima fedora è la versione di testing diciamo più più aggiornata del ramo redat quindi pacchetti RPM e poi c'è Debian che ha i pacchetti DEB Ubuntu che penso che lo conoscete tutti che è un serverativo di adesso che fa anche la versione server quindi la LTS che è stata per long time support in cui è un derivato da Debian e quindi ecco poi in basso il serverativo c'è l'installazione del server web del ah sconosciuto c'era ah qui sembra di un po' più obsoleti quindi Docker istruzione prende immagine cloud server quindi qua potete trovare tutti i riferimenti e anche le guide se siete voi che potete stare adesso il Docker va moltissimo per l'azienda e poi basta che uno ha ram e hard disk su qualche server aziendale può implementare anche queste soluzioni diciamo su macchine virtuali qual è il vantaggio il vantaggio è che essendo una cosa in cloud per esempio qui è una macchina virtuale che sta su webware come dicevo prima io posso anche copiare la macchina virtuale sta in un file e il bello della macchina virtuale creato proprio come istanza virtuale io posso anche copiare quel file da qualche parte fare il copio solo del file e se anche qua c'è qualcosa che va a rovinarsi che non si avvia più la macchina che ci sta qualche sovrascrittura mi è aperto qualche file o qualche modo di sparate ho una copia posso fare delle copie paranoiche comunque le copie di backup addirittura anche della mia macchina virtuale quindi il bello la macchina virtuale è che se ci sta qualche problema non sto per tempo sul computer killo comunque cangello il file e avvio un'altra istanza un'altra macchina virtuale che ho già copiato e mi ritrovo già tutto bello funzionante questo è consigliato per chi ha dei aggiornamenti database che magari va a sovrascrittura dei file o si fa qualche danno a livello di configurazione in cui non parte i servizi quindi quello che volevo far vedere è che allora utenti ecco utenti l'ho fatto vedere questa essendo la versione free quella community quindi c'è la camera administrator un cloud e il ministero mi ha chiesto la password inizialmente c'è la possibilità ecco la possibilità di limitare lo spazio andare a scrivere questo per creare i gruppi gli utenti amministratori impostazioni questo ho fatto vedere prima le applicazioni queste sono le applicazioni che ho scaricato installato prima sul market in cui il market ci si va qua su in alto in alto sinistra c'è quello scritto market quello che ho installato l'ho messo qua c'è il generale in base alla licenza tanto alla fine sotto il motore c'è il PHP e posso mettere anche casella posta elettronica per gli avvertimenti qui sceglierei il canale di aggiornamento la stable è aggiornamento che è più testato quindi più cauto daily come essi qualche aggiornamento un cloud che magari è poco testato uno lo può avere subito in aggiornamento la beta è una versione che è assolutamente un po' instabile cioè la beta viene considerato quel software in cui ma non so se va in conflitto con qualcosa dentro insomma e produzione di solito si mantiene a stable perché a stable è una parola chiave insomma per dire che il software è stabile ci puoi lavorare non va strani comportamenti questa è l'archiviazione esterna che io non ho inserito niente autenticazione utente questi sono gli utenti i gruppi che si possono configurare ecco riove è il mio nickname quindi ho creato questa cosa qui e tutto porta comunque un sacco di guide molto supportato il bello è che c'è anche la cifratura la condivisione dei file anche fuori dagli utenti e aiuto e suggerimento ecco portano tutti i link ai siti ad hoc oncloud.org messa in sicurezza vi faccio vedere questo ecco qua questo è il doc in cui annuale installazione c'è tutte le iscrizioni tutte le guide in base a quello che serve e quindi ecco lo spunturizzo come qualcosa che funziona che è molto dinamico e la foto è la cosa che mi ha molto impressionato il fatto che si può aggiungere anche i pacchetti office sul market e in cui ecco diventa un bel punto di riferimento anche per modificare i file e quindi invece di spendere con soluzioni proprietarie di cloud interni a volte mi capita di vedere che poi escono l'esplorato zero day oppure nessuno sa quello che fare ma questo può essere un'alternativa prima ho visto che c'erano i lettori per gpx per i file perché comunque per aprire il formato di questi file c'è bisogno di un lettore e quindi ecco da text editor pdf e gpxpod questo qua allora siccome che ho usato il text edit se vado su file qua io teoricamente potrei anche creare un file di testo prova scrivere il mio file pieno totalmente salvato come faccio invio e quindi ho il mio file creato sul cloud oppure siccome che avevo salato non so se vi ricordate prima su il diagramma quello per fare qui metto webinar e mi crea e mi crea il file ah ok qui devo autorizzare c'è delle restrizioni ecco qua quindi faccio il mio cerchietto salva salvato exit quindi mi ritrovo qua webinar il mio file e quindi ecco poi i tag è importanti per i file in modo da trovare e poi ecco creare un collegamento per per i file che si vuole condividere quindi ecco sponsorizzo un progetto open source molto versatile che funziona alla grande io ecco quello che volevo far vedere se ci sono domande o qualcosa almeno non la vuoi ci stiamo con i tempi insomma almeno per stasera vai pure alla sezione domande allora dal basso allora quanto è lo spazio che si ha con la versione community allora la versione community scusate David non mi sembra che ha un problema di spazio lo spazio dipende da te e del adesso lo vediamo subito perché ecco ci hanno facciato stop no infatti mi ricordavo no non c'è problema di limitazione di spazio è un problema di quante persone dei account che puoi creare install ecco quindi io ho preso poi ecco parte che per utenti puoi anche decidere lo spazio però non c'è insomma ecco è un discorso di licenza di persone che possono interagire non di spazio poi prossima domanda olexander è possibile fare un backup di sistema operativo in modo automatico utilizzando un cloud come fa VAM ad esempio la VAM non l'ho mai utilizzato è possibile fare un backup di sistema operativo in modo automatico non lo so non lo so perché dovresti prendere bisogna bisogna vedere tu dici cerco di di tradurre la domanda non so se ti stai riferendo a ho un computer con Windows ad esempio ho il mio programma di backup dell'impostazione di Windows delle copie locali e poi me le metti su cloud quello dipende da un computer tuo dal software che poi va a dialogare con questo sistema cloud se invece tu dici solo cloud l'impostazione di programma il client già lo fa il client di un cloud quindi perché tutto il backup di sistema dovresti in modo automatico l'unica cosa è quella di avere un programma che va proprio sul cloud a fare le impostazioni dei copie di Windows per esempio se tu stai per esempio se ti riferivi tipo a a Mac in cui ha Time Machine Time Machine lo puoi mettere da un'altra parte lo puoi mettere anche sul cloud il file per ripristare le impostazioni con Time Machine quindi però dipende sempre dal software che utilizzi sul tuo computer in cui hai quel sistema che ti interessa fare la copia di backup allora Simone TrueNAS verso un cloud in due parole TrueNAS è FreeBSD è BSD è quindi licenza diversa e una piattaforma diversa un cloud sostanzialmente è per ambito Linux addirittura si può mettere anche su microcomputer tipo Raspberry così quindi sono simili ma sono paralleli ecco non è che una meglio e una peggio allora TrueNAS per esempio di Garino ha ZFS un system molto molto sicuro che per esempio in ambiente Linux stanno cominciando a prendere in considerazione ma non è supportato al 100% invece un cloud essendo open source è molto più libertino tra virgolette trovi tutte queste cose fantastiche del market quindi cioè questo io cioè per chi bazzica sia l'ambiente BSD e Linux sai benissimo cioè chiunque è born secondo in cui su Linux con il discorso che è licenza molto più permissiva c'è molto più comunità trovi molto più integrazione molto più guide molto più cose insomma interfacciabili rispetto a qualcosa che è basato su BSD che è un po' più diciamo statico un po' con dei paletti in cui puoi fare certe cose e non più però ecco l'altro NAS è molto molto valido forse un cloud per me c'è qualcosetta in più insomma ecco se devo dare una valutazione sceglierei un cloud poi Andrea configurando opportunamente il router si può accedere anche all'esterno alla propria rete certo assolutamente Andrea si apre le porte sul router e c'è il port mapping in cui in base alla porta specifica per esempio questo sta in ascolto sulla 80 questo server web apri sul router tuo di casa telecom quello che è in cui chi chiama l'80 viene dirottato all'indirizzo IP interno a 2 il mio è 2.292 il tuo sarà diverso ovviamente in cui quando ti connetti all'indirizzo IP pubblico tuo ti manderà al computer interno in cui tieni questo sistema on cloud però ecco l'indirizzo IP pubblico è un optional in più il fatto da richiedere l'indirizzo IP fisso ecco altrimenti tutto il solito casa o le piccole aziende c'erano il dinamico meno che non hanno delle esigenze specifici tipo come questo poi next cloud Paolo chiede next cloud verso on cloud questa è la grande dietriva come se fosse il derby next cloud forse next cloud è stato il primo diciamo che è stato un po' la base su cui dopo è nato on cloud quindi on cloud è un po' un qualcosa a parte che se cerchi su google scrivi proprio next cloud verso on cloud trovi proprio diversi form che hanno analizzato i programmi di uno dell'altro sicuramente on cloud c'è qualcosa in più perché è nato proprio come spin off molto più libero e con molto più opportunità rispetto a next cloud è validissimo il progetto next cloud però on cloud è qualcosa di un po' più innovativo quindi tanto vale provare se devi provare che sei incerto comincia da on cloud che in parte è già vantaggiato insomma qualcosa di più advance ecco oglesandre amici adesso fare perimento alla domanda che prima intendevo tipo se esiste un'app per fare backup analogo clonezilla aumey agronis sì c'è ci sono non voglio dire troppi nomi particolari perché queste qua molte soluzioni sono a pagamento con licenza quindi siccome che non mi paga nessuno per tirare l'acqua al molino vorrei sempre restare abbastanza su generico sì ci sono dei programmi specifici che salvano anche su dispositivi FTP o addirittura oppure cose streaming cloud sì ci sta insomma quello non è un problema basta che scarichi tu hai accenato agronis agronis è buonissimo ma ci sono anche altri software dove bisogna avere anche il sistema operativo che utilizzi che vuoi fare i cloni comunque sì ci sta e poi puoi mettere sia su cloud sia sì ci sta quindi insomma però ecco non voglio dire marche o cose specifiche di qualche prodotto Luca come sono i client desktop e mobile guarda non ce l'ho adesso fatto vedere perché i client sono abbastanza semplici sono tipo simili a come se c'hai qualsiasi file in cui si installa ti chiedono l'indirizzo IP del tuo cloud gli dai username e password e solitamente c'hai la classica finestra in cui trascini dentro io ho preferito farlo dal browser perché insomma è semplice insomma mi piace connettermi come se faccio con Google Drive o Mega NZ o qualsiasi soluzione insomma online quindi niente particolare insomma niente strano tutto nella norma non sai come qualsiasi client insomma che ti permette di caricare le cose Davide perché scegliere un cloud quando ci sono NAS già belli e pronti tipo QNAP o Synology allora Davide io ho prodotto cioè io ho consigliato questo qua un cloud perché un cloud è open source te lo installi dove vuoi te e sei tu a gestione del prodotto il bello del software open source è questo qua cioè che sei te se sei idoneo se sei capace se ti va sei tu che hai il potere di fare quello che vuoi invece QNAP o Synology che ha accennato te sei limitato a software e aggiornamenti che ti fanno loro e non più se QNAP ti abbandona con gli aggiornamenti di quel sistema non puoi farci niente con quel prodotto perché c'è solo QNAP a meno che non trovi qualche guida qualcuno che magari è riuscito a mettere qualche distribuzione Linux qualcosa particolare qua invece è open source è open source ovvero fai quello che vuoi c'è indire quello che vuoi è un computer tuo c'è stai la distro che ti pare a te ci metti il hard disk che vuoi te te lo configuri come vuoi c'è l'ambito open source rispetto a un qualcosa di proprietario c'è molte più opportunità rispetto a quelle strade predefinite non so Davide se hai sentito ma di recente c'era stato un problema sui QNAP o sui cloud della West Digital mi sembra se non ricordo era un po' di tempo fa in cui c'era un problema dei aggiornamenti non so se era delle librerie HTTPS c'era qualche problema stai fatto che ti aspettava l'azienda che ti fa invece qua essendo open source essendo una comunità c'è molte più possibilità di supporto c'è molte più possibilità ecco a me per esempio mi darrebbe fastidio il fatto che spendo 5, 6, 700 euro quello che è per il dispositivo con 4 hard disk e ride che però non posso aggiornare non posso tenere niente è solo finalizzato a quel software qua qua invece con home cloud non mi importa niente qual è il computer se è server se un domani prendi qualcosa con un hard disk con 3 hard disk con il ride 5 ride 0 1 faccio quello che voglio e me lo configuro come voglio comunque è sempre un sistema Linux cioè comunque alla fine adesso qua non l'ho fatto vedere non l'ho fatto vedere perché non ve lo posso far vedere ma sulla macchina che si avvia la macchina virtuale sostanzialmente io posso ho una riga di comando in cui posso andare a interagire come se fosse una shell da Linux quindi puoi fare molto più cose rispetto a delle cose più stabilite cioè bisogna vedere Davide qual è l'approccio che uno si ha io sono uno manettone sono un uomo che va dietro le quinte quindi piace mettere le mani sporcarsi provare e testare cioè è un po' questo la filosofia l'informatica se tu invece sei solo un cliente che devi soffrire ovviamente tutta la parte sistemistica che magari puoi andare a customizzare il kernel puoi andare a installare delle sicurezze in più che non ti importa perché neanche lo sai allora prendi i prodotti già pronti e finisce lì insomma con cui richiede il minimo indispensabile come interazione Raffaele quante versioni distribuite del prodotto esiste in una particolare come master e slave per coprire il backup del master spero non ho capito come versioni distribuite del prodotto esiste una particolare come master e slave per coprire il backup ah forse forse ho capito no 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 però sei te che puoi mettere su due macchine virtuali e fa l'integrazione tra due macchine virtuali in cui una è quella ufficiale in cui ci vai a lavorare e quell'altra diventa una sorta di backup dei file che metti su Elena di che distribuzione versione di Linux si tratta Elena non sto parlando di nessuna distribuzione di Linux in particolare questo è un sistema cloud è un sistema cloud che poi io lo sto facendo girare su Windows quindi è una macchina virtuale su VMware ma avevo fatto vedere prima dal sito adesso ci è arrivato se qualcuno gli è sfuggito il fatto che sono i pacchetti li puoi installare su diverse distribuzioni Linux allora era 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 su installazione eccole qua quindi ecco puoi scaricare sia la Docker quindi la Docker indipendentemente del sistema che utilizzi o VMware o VMware o prima ho fatto vedere oppure VirtualBox oppure ecco queste sono alcune distribuzioni più utilizzate in ambito in qualche modo Enterprise Storage in cui se vuoi che ti va lo puoi installare su questi qua quindi ti prendi la documentazione installazione su Debian ti dirà fai apt-get update fai upgrade aggiungo la prima kernel poi fai install PHP Apache poi ti dirà installare SQL 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 ma SQL su qualche database se tu puoi installare file hardening del kernel come vuoi non sei un sistemista non ti va di stare appenare a installare mezzo mondo ok sta già direttamente come ho fatto io la versione scaricabile prendi immacini questa era quella per il Docker se sei pratico del Docker ti scarichi il Docker trovi già tutto definito già preinstallato non devi stare a smazzare a guardare le video e installare questi queste sono le versioni questa è l'ultima la 10.9 che l'avevo installato io qualche giorno fa questo è un cloud completo da poter scaricare quindi ecco è una cosa che funziona va quindi vi verrà sponsorizzare la grande try desktop documentazione get mobile app questo come dicevo se si apre Android per iOS e qui ecco vi faccio dato che non ho il cellulare che non ve lo posso far vedere eccola qua quindi classica applicazione standard per caricare i documenti su cloud quindi qua vi ha configurato quel vostro IP o se come diceva qualcuno vuole farlo da internet si apre la porta su router su configura questa è l'azione server download ecco qua poi c'è anche la pagina JIT secondo me la vuole andare a vedere ecco vi riporto al sito perché addirittura anche il CERN lo utilizza quindi ecco sicuramente è un sistema molto valido che vale la prima da provare insomma ecco poi qui come dicevo c'era la richiesta della demo in cui uno compila sostanzialmente ecco come se fosse questo qua ma più limitato andiamo avanti Paolo pubblicate l'illistrazione dello speech in modo che la possiamo rivedere ah ok già risposto Maria Chiara e Maria Luce ah sì Maria Luce vabbè la Luce porta il chiaro ci vuole che ti do qualche nickname come me in modo che uno si ricorda il nickname fa molto più privacy ok ci sono altre domande comunque io sono sempre a disposizione perché mi piace nel mio piccolo perché non è che sono il sabiantone turno sono solo un appassionato che si occupa del mondo open source fin dagli albori se avete qualche domanda o qualcosa che vi posso rispondere potete contattare anche sull'Intern tranquillamente vi risponderò per quello che posso fare io ah c'è un'altra domanda nuova fresca Pietro a livello di sicurezza dei dati cosa lo rende innovativo contro eventuali brecce allora sicuramente sul market c'è stata la doppia d'identificazione che è molto interessante rispetto ad altri storage poi il discorso del cloud allora se per esempio sei ti è capitato il discorso del cryptolock di quegli malware che prendono i nostalgi il computer ma sostanzialmente perché vanno a criptare i file vanno a riscatto in bitcoin che se non hai la password non vuoi decryptare i file quello è un lavoro in realtà qualcosa che va a colpire il discorso del file system e del windows perché il file system e del windows è quello del windows 2000 professional cioè è sempre quello ntfs network file file system e quindi il fatto di mettere i file su cloud o da qualche altra parte se c'è qualcosa che ti colpisce se il computer per qualche modo gli succede qualcosa sai che c'hai i file su cloud basta che riprendi l'autocomputer ti ricordi lo senere del password ti connetti al sito o al tuo cloud privato interno riscarichi i file e quello lì è un piano B d'emergenza ecco che attualmente sul cloud nessun virus nessun malware ancora riesce ad andare e poi ecco il discorso del cloud è che il cloud io ho parlato del locale ma il cloud potrebbe essere anche più cloud e anche messi online messi online significa che hai degli obblighi in meno per la corrente per il discorso di tenere gli hard disk aggiornati hai magari il fatto che puoi tenere più hard disk ridondanti tante volte se uno è difettoso si rompe hai la possibilità di recuperare i file c'è c'è un sacco di pro interessanti che così c'è altre domande che facciamo tagliamo o andiamo avanti vai pure vai pure coltello è abbastanza sforato allora Luca forse mi è sfuggito l'infrastruttura hardware come gestita non mi riferisco all'installazione server ma agli utenti allora Luca perdonami ma io qua siccome questa è l'utenza quella community ti posso far vedere solo questa sessione qua che è administrator che è quello che ti crea loro e on cloud che ti crea loro la password nella prima procedura di installazione chiamiamo installazione ma in realtà è di configurazione cioè ti fa scaricare il certificato e ti dice la password e poi eventualmente ti dice qual è l'indirizzo IP del del cloud quindi posso mettere qua ciao per farti vedere ciao ciao punto hit gruppi qua admin crea eccolo qua ho creato l'utente è prefinito qui ci metto il limitato in giga 10 giga è illimitata administrato è prefinito sarà illimitato qua magari è un cloud l'account io ho solo 5 giga 5 giga quindi eccolo qua insomma il pannello utenti e sei qui che crei l'utente che crei i gruppi e decidi dire che le password da risettare o da cambiare questo ciao abbiamo messo il gruppo admin quindi se creo delle cartelle con il tag per il gruppo admin lo potrà vedere anche se la cartella sta sull'accanto mio che sono amministratore ecco un esempio e quindi tutto qua insomma ecco io vi riporto sempre al sito perché comunque è molto esastivo e ci sono le guide poi comunque è molto molto utilizzato un cloud un cloud che trovate anche su forum a diverse risposte insomma se ci avete qualche curiosità allora Lidia quindi diciamo che un cloud è meglio per aziende più piccole funziona lo stesso per un'azienda più grande con più utenti scusami se avete già parlato con questa cosa ma mi sono collegato un po' tardi Lidia un cloud è per tutti non è per io ho parlato dell'azienda piccola è perché magari essendo una soluzione open source uno la può provare nel suo piccolo magari uno fa io non lo so chi siete voi però se magari siete sistemisti o comunque vi piace il mondo open source potete provarla su anche il vostro computerino aziendale e mettere su una cosa locale ma non è che è limitato alla piccola azienda perché vi ricordo che un cloud viene utilizzato anche dalla comunità europea io sul dove era eccoli qua la banca europea di investimento lo utilizza la commissione europea lo utilizza Zurich il CERN quindi non so vogliamo chiamare l'azienda piccola queste qua no quindi è per tutti poi dopo uno solo installa dove lo ritiene più opportuno con le configurazioni che vuole il bello dell'open source è questo qua che in base tu lo puoi adattare in base alla macchina che tu hai non sei obbligato a quella macchina particolare a quelli requisiti minimi o quelle cose poi Adriano si può avere un attimo il costo per applicazione commerciale guarda Adriano basta che vai su prezzario eccolo qua community basic zero e poi ecco per utenti per utenti 25 oppure standard 5 euro al mese quindi stiamo parlando dei prezzi cioè proprio sciocchi insomma per il discorso business perché comunque fa un sacco come insomma che poi c'è applicazione trasversale per il cellulare che vi permette di fare un sacco di cose quindi la butto là provatelo giocateci e vedete se può far per voi se è di vostro gradimento questo per i team io comunque vi rimando sempre al sito perché poi c'è la cosa carina il fatto che è tutto crittorafato quindi è tutto end to end quindi anche dalla gestione del client quando vai a mettere i file sul NAS non è in chiaro e questo è importante queste prove sono comunque c'è sempre il trial lo puoi provare e vedere se vi ritrovate insomma ok è finita anche perché abbiamo sfruttato dalla grande sono 7 e 40 siamo abituati ormai sì sì io cerco di rimanere abbastanza perché se no Emma per te le domande sono sempre tante come sempre bene dai come sempre io vi invito a consultare le nostre offerte sull'età informatica lavoro a seguirci sempre sui nostri canali social ci trovate infatti su facebook instagram linkedin twitter e anche telegram quindi scegliete il canale che preferite detto questo Fabio ci troviamo per il prossimo webinar e ringrazio tutti buona serata grazie ciao 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 a tutti 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 ciao a tutti